o salve cari amiche e cari amici qui il vostro saint jean vi augura di avere un felice prospero anno nuovo 2021 speriamo che questa volta ci va di bene perché io ogni anno vi auguro un felice prospero anno nuovo come ho fatto nel 2019 solamente che tanto bene non è andata tanto felice non è stato e mentre mai tanto prospero difatti quest'anno ma portato male ho appena finito di fare un video e mi sono accorto che il mio cellulare nokia asha 302 aveva l'audio disattivato quindi probabilmente in un mio altro canale uscirà una seconda versione di questi auguri a cui metterò in un secondo tempo la voce comunque cari amiche e cari amici mi raccomando per questo nuovo anno non sono riuscito a trovare un cappuccio rosso e la barba bianca ma tanto riguardo alla barba già mi sta venendo un po bianca per conto suo infatti una decina d'anni fa se non 15 me la lasciavo crescere larga ci sono delle foto mia in instagram perché era bella scura adesso invece dopo una settimana la taglio al massimo perché mi sta venendo sempre più bianca allora non sono riuscito a trovare la cappuccia rossa da babbo nadale e mentre mai la barba bianca poi lasciarmi crescere questa avrebbe richiesto un anno ma mi raccomando finite bene quest'anno 2020 nel miglior modo possibile e vi auguro a tutte e tutti voi di avere un miglior inizio e un felice prospero anno nuovo 2021 che a me già sta finendo male perché ho registrato un video di quasi sette minuti dei quali avevo il microfono disattivato pensate un po che neanche me ne ero reso conto quindi mangiate con prudenza evitate di esporvi al freddo dopo mangiato perché vi potete collassare l'intestino consumate alcol e droghe con moderazione e soprattutto se lo fate non conducete rispettate il distanziamento sociale fuori casa lavatevi le mani con l'alcol in gel o con l'alcol indossate la mascherina che prima l'organizzazione mondiale della salute diceva che no che addirittura gli asintomatici non dovevano portare la mascherina adesso invece ci vengono a dire che persino una sciarpa o una garza sono efficaci poi lavate la mascherina ogni volta che ritornata in casa nel medioevo si combatteva la peste nera e la peste bubonica anche nel rinascimento bruciando i vestiti ogni volta che si ritornava a casa adesso basta metterli in lavatrice e poi festeggiate la festa soltanto fra familiari e parenti e numero ridotto ventilando le case cercando di non raffreddarvi beh questi volevano essere dei corti auguri li vedrete il 31 dicembre in premier la mattina io forse dormirò mi raccomando partecipate alla chat e soprattutto quando questa premier sarà disponibile come video scrivete i vostri commenti sotto per farvi conoscere dagli altri spettatori attivate la campanella dopo esservi iscritti così avrete novità dal canale e commentate sotto e condividete il video affinché anche altri possano commentarlo e condividerlo in questo modo mi aiuterete molto sarà il vostro regalo di natale di fine d'anno di anno nuovo e anche di compleanno perché io compio gli anni il 26 gennaio 1960 sono nato il 26 gennaio 1969 con più gli anni il 26 gennaio 2021 farò 52 anni allora mi raccomando condividiate questo video dopo averlo commentato iscrivetevi al canale azionate la campanella partecipate alla chat forse io non potrò partecipare e questo sarà il mio ultimo video dell'anno speriamo naturalmente di poterne fare tantissimi altri l'anno che viene comunque il video che ho fatto precedentemente e che purtroppo è venuto muto perché c'era la il microfono del cellulare stranamente disattivato io lo doppierò quindi non so che corso detto nel video e non si vedrà a sincrono quello che ci metterò e lo pubblicherò in uno dei miei tanti canali di youtube per cui probabilmente in spreche radio podcast sentenza ma mi raccomando passiate una buona vigilia d'anno nuovo un buon anno nuovo quindi oggi che 31 dicembre questo cioè oggi non è 31 dicembre non so che data abbiamo oggi e 19 dicembre quindi quando vedrete questa premiere il 31 dicembre la mattina o la sera probabilmente in pochi perché sarete presi a festeggiare partecipate della chat se la vedrete durante la premiere questo video poi iscriviti al canale se non l'avete fatto azionate la campanella e commentatelo e condividiate perché così se voi commentate tutti gli spettatori magari si iscriveranno al vostro canale e mi raccomando ancora una volta ho 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 buona vigilia oggi che vedrete il video il 31 dicembre è felice e prospero anno nuovo io spero che questa volta i miei auguri si realizzino completamente non come nel 2019 che vi ho augurato felice prospero anno nuovo poi si è visto nel 2020 appena iniziato che cosa è successo ciao ciao adesso faccio il video molto corto perché altrimenti mi penserà molto editarlo già devo evitare un altro video che è venuto senza audio lo caricherò in un altro canale o ciao ciao mi raccomando a fine video metterò dei video che vi consiglio di guardare apparirà alla striscia in alto dei titoli e poi cioè durante tutto il video vi apparirà quella striscia dei video che io vi consiglio sono cinque e poi a fine riproduzione di questo video più o meno 30 secondi prima vi inizieranno apparire le schermate o le schede finali del video guardatevi tutti e nove i video che io metto durante la riproduzione del video cinque video e poi 30 secondi prima che si concluda appariranno le schede a fine video quindi sono nove video totale guardatevi anche quei video commentateli e condivideteli affinché tutte le persone che hanno visto quei video possano iscriversi al vostro canale e possano opinare come voi farete riguardo a quei video che probabilmente riguarderanno tutti il natale il capodanno ciao ciao ho 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 buona vigilia ad anno nuovo e buon e felice anno nuovo buon prospero e felice anno nuovo a tutte e tutti voi 2021 o ho non ho trovato cappuccia rossa e barba bianca ma avevo già detto e la barba bianca mi sta crescendo avrei dovuto farla crescere per un anno ma lei c'era avuto tutta bianca e poi farò un video per il mio compleanno per la gioia di tutte e tutti voi che vorrete augurarmi un buon compleanno il 26 gennaio e farmi lavorare da molte persone amici parenti e familiari vostri che lo condivideranno ciao 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 ciao